Hi guys, sono Fala Galerola Cicos, ciao ragazzi, siamo oggi di nuovo in un grandissimo pack opening oggi ragazzi, domenica, dobbiamo cercare di trovare delle belle armi sicuramente una la troveremo, perchè come vedete ho la mazzetta per armi che garantisce un'arma corpo a corpo a distanza e include anche chiavi bonus, quindi ottimo così ho accumulato anche 155 cripto chiavi e ho questi 10 bundle come sapete ho fatto le sfide dei 75 partiamo con l'aprire i bundle, dai poi dopo di qui apriamo le cripto chiavi e come ultimo raga apriamo la mazzetta di armi sperando di trovare qualcosa di buono noi iniziamo benissimo qui raga ho visto tanta gente trovare qualche arma, quindi potrei essere anche un po' fortunato sapete che ho trovato l'FFR, è stato benissimo prestigio no vediamo un po' raga, incrociamo le dita ragazzi luce, luce nel dito, incisione no, non mi serve, non mi serve andiamo un po', parte nella giungla sembrano, sembrano bei pacchetti però non arriva quello che voglio monocromatico, ragazzi scintilla e medico coltello a proposito dovevo fare il coltello per la dark matter so solo a livello 4, devo fare molte più incisioni intanto bruco maschera antigassi di calcomania che cosa è quello a destra? che cosa è quello a destra? no, basta con sto medica prestigio di merda dai, doppio gioco sbalzo d'umore bandito, che cazzo ne faccio di queste cose leggende? dammi un'arma leggende e ora uscirà un pacchetto di merda perché sono uscite due leggende se si è bloccato pure, si è buggato rivederci ragazzi al prossimo video eccoci qua è ripartito incredibilmente il Geist centro perfetto è andata una merda è merita merda siamo a 208 cripto chiavi abbiamo un epico addirittura da bruciare quindi abbiamo 230 cripto chiavi andiamo subito ad aprire questi quanto sono? super giù? 7,8 7,8 MxGuard grandissimi grandissimi ragazzi e anche 20 cripto chiavi ottimo così ragazzi l'MxGuard non ce l'avevo bellissimo uh che cazzo di culo quando facciamo questo un culo esagerato benissimo così godo tantissimo grandissimi ragazzi e non è finita perché abbiamo anche la mazzetta d'armi vabbè ora usciranno pacchetti di merda ma me ne fotto me ne strafotto grandissimi ragazzi abbiamo anche l'MxGuard vi porterò sicuramente qualche gameplay con anche furia qui vi porterò qualche gameplay con l'MxGuard sicuramente un fucile che si è usato bene ragazzi è fortissimo bella stasera 4 non voglio far dover questo video un millennio vabbè era scontato un pacchetto di merda ora potrebbe uscire qualcosa di buono vediamo boom tempesta no mi piace di aprire una tipo la spara della furia oppure tipo non lo so la cosa di porco ce l'ho già ma vorrei qualche altra cosa qualche altra arma corpo al corpo oppure una marshal mi piacerebbe la marshal ragazzi mi piace davvero tanto come seconda arma vediamo ora la rimozione no quanti ci mancano 5 sicuramente abbiamo dei duplicati abbiamo anche un epico una leggenda ok 50 ragazzi probabilmente altri 2 probabilmente vediamo un po' niente la cacca ragazzi la cacca 25 5 non ce la facciamo arriviamo a 28 29 quanto facciamo 29 ragazzi 29 e vabbè lasciamo stare ragazzi anzi no apriamo questi 2 non si può mai sapere ragazzi a me esce qualcosa tipo qualcosa di leggendario no sto troppo ragazzi volando con la mente niente niente raga vabbè potrei anche bruciare l'ultimo duplicato 5 si aprire l'ultimo comune magari c'esce un leggendario magari magari un epico qui ti arrendi no vabbè ragazzi è arrivato il momento di aprire questa mazzetta per armi ragazzi io spero di trovare o la spalla e la furia o le maschile perché poi fa FFR ce l'ho l'RSA interdiction cioè il cecchino non mi piace tanto però vabbè vediamo un po' ragazzi vediamo un po' malice no al malice ragazzi non so felice però vabbè è comunque abbastanza figo speravo in qualcosa di meglio e vabbè ragazzi accontentiamoci di sto malice che vi devo dire vi farò le 75 sfide aspettando proprio là le sfide quotidiane e mensili e non lo so magari qua ci esce qualcosa ma è impossibile ci vediamo autostrada camper bellissimo guardate sto qua questo è il pacchetto dei sogni per tutti voi tanto lo so vabbè ragazzi io vi ringrazio per aver seguito il video vi porterò sicuramente gameplay con l'MX Garand ci vediamo al prossimo video lasciate un like se vi è piaciuto follow ciao 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 ciao